salve a tutti sono mister camarium benvenuti sul mio canale oggi andiamo a vedere come si può modificare questo dispositivo soprattutto è una cosa più importante iscrivetevi e lasciate un like allo questo dispositivo ne ha altro che un sistema di controllo a un canale con ricevitore di radiofrequenza non quelli a raggi infrarossi questo qua un ingresso di 220 os uscita 220 perché lo vado a modificare perché mio padre che aveva comprato aveva intenzione di utilizzarlo per un dispositivo a bassa tensione in pratica vuole spingere e cintre con i pannellini solari da dodios se avrei se avesse utilizzato questo dispositivo e applicato avrebbe fatto esplodere tutto tenendo presente qui il dispositivo una batteria a litio e e lascia a voi l'immaginazione di quello che parebbe che poteva succedere la prima cosa che ho fatto è quindi andato ad aprire aprirlo per verificare se effettivamente era possibile fare sta modifica andiamo a prelevare ecco aureli quindi effettua st operazione non è difficile questo è il moduli alle frequenze sotto c'è tutto il questo qua è il sotto c'è il dispositivo di controllo io mi sono già realizzato uno schermino per tracciare praticamente il circuito per capire dove tagliare e modificare e e questo è quello che ho fatto questo qui ore lì a un solo scatto ho dimenticato come si dice beh quindi a due punti di alimentazione e qui sono i due contatti a un contatto adesso uno scambio adesso mi ricordata paulo scambio come ho fatto per intracciare il il contatto da eliminare allora questo qui sono i due 20 come vedete anche dalla scatolina qui abbiamo le due le entrate che sono nero e rosso e poi c'è l'uscita nero e blu l'uscita come ho detto prima è a 220 che poi qua indica che si può utilizzare una labbra incandescenti da 800 watt è una risparmio energetico al 300 watt quindi qui c'è un nero in comune e in questo punto qua sì in questo punto qua gli togliamo questo qui nero e tagliamo questa vista questo qui nero andiamo a utilizzare direttamente sul contatto poi abbiamo questo qui blu che come dice anche è riuscita quindi se vedete è collegato direttamente sul piedino di rile e che la il russo che l'ingresso della 220 entra di qua alimenta lo scambio che questo qui è normalmente aperto quindi alimenta lo scambio quando viene eccitato e dalla attenzione qui in in più tramite questo che dovrebbe essere una ristenza un'induttanza alimenta tutto il resto di circuito quindi a questo punto andremo a tagliare in questo punto qua il nero e c'è russo lo lasciamo in questo punto adesso prepara l'attrezzatura e facciamo questa modifica cominciamo allora come togliamo innanzitutto questo qui allora io mi sono armeggiato con il mio succe a stagno però molto uso una ragazza metallica ma io attualmente riesco non utilizzarla semplicemente perché costa non lo faccio per lavoro ma solo per hobby sarebbe lo spreco perché non mi rientrano i soldi ecco questo torto poi visto che quando devo tagliare eliminiamo un po di stagno da questo superficie questo stagno è stato aggiunto perché visti che quasi basta bella quantità di potenza hanno pensato di aumentare la capacità per di ampere aggiungendo di uno stagno questo a me in fase di taglio potrebbe darmi fastidio lo tagliamo e facciamo la stessa cosa anche qua infatti si raffredda facilmente è dovuto probabilmente e poi qua sto pulendo ma alla fine non è che mi serviva ok allora questo qui andiamo ad applicarlo qua perché qua sta lo scatto praticamente io manderò il segno da qui a qui e tagliando questo punto qui quindi ci serve lo stagno questa la riga 60 40 ormai sono da anni pochi non la uso molto e andiamo ad impastare con il miglio ci mettiamo qui scusate fa un po' freddo oggi in questo caso qui in pari che abbiamo finito l'unica cosa da fare è tagliare questo punto qui che andremo a fare con un dimmer la punta va sempre pulita al loro finito ricordate che non si usano carta brasile basta utilizzare la punta di un giravite e in questo modo si tolgono le impunità finito adesso preparo il dimmer all'inizio vi avevo accennato che avrei potuto tagliare qui tagliando qui avrei potuto lasciare questo nero qui però visto che stiamo lavorando adesso da una 220 a un 12 o su comunque una bassa tensione preferisco per questione di sicurezza passare questi due cavi al in acquisto ingresso qua dei box cioè così in questo modo da non for confondo e soprattutto a mio padre durante questa operazione in modo che lui sappia che questo è l'ingresso che va alimentato da 220 e questo qui è il contatto che andrà a utilizzare adesso visto che il taglio della pista che devo fare deve essere molto largo perché qui sto guardando che qui entra a 220 e questo è un contatto a bassa tensione utilizzerò questo disco qua adatta velocità lo metterò sugli 8000 anche 9000 al meglio e vado a fare il taglio ecco qui taglio perfetto se andiamo un po' troppo oltre tagliamo su tocca va bene a posto visto che questo quadri può camminare qua sotto no da fastidio quindi questo mi sa che lo devo dissaldare e attaccarlo come ho fatto qua perché potrebbe da fastidio quando passo dall'altra parte tanto qua mi sembra che lo spazio ci sia in chiusura no non c'è lo spazio quindi lo devo lasciare lì ah no no posso fare anche direttamente così va bene ok ok quindi abbiamo detto rosso qui l'antenina passa di qua questo blu qui il nino non ci passa quindi non ci resta altro che modificare qui in modo a far passare i due cavi e con questo possiamo farlo vediamo se passare i due cavi vediamo se passano i due ok perfetto possiamo anche richiudere la scatola ecco qua quindi vedo se riesco ad attrezzare il banco per fare un collaudo una prova vediamo purtroppo non posso effettuare la verifica a banco perché per questioni economiche non ho l'attrezzatura adatta ho queste boccole qua enormi ma non ho la possibilità di mettere direttamente il 220 qua e stare in sicurezza quindi l'unica cosa che andrò a effettuare è una prova di continuità per verificare che i contatti in questione siano effettivamente isolati dalla 220 allora mettiamo in modalità di odocon indicatore sonoro facciamo la verifica prima e a volte questo questo tester da un po' i numeri verifichiamo prima così e così ok non c'è contatto perché il circuito è chiuso verifichiamo adesso con questo e questo non c'è contatto questo e questo qui quindi è isolato non c'è la 220 in comune perché questi qua sono collegati direttamente con il relay la prova l'andremo a fare direttamente sull'impianto quindi adesso sto qua lo riporto a mio padre e lui lo proverà sull'impianto e vedremo come finisce come va a finire nel frattempo rinnovo e vi invito di lasciare un like e iscrivervi al canale buona giornata a tutti